Quanto è importante esserci? Guarda, io sono quasi dieci anni che faccio eventi del genere, sono sempre super orgoglioso di farne parte perché poi si crea un ambiente importante, si creano tante sinergie, tante amicizie e soprattutto per far del bene è la cosa più bella del mondo, cioè usare la tua arte o la tua, diciamo, mini notorietà per far del bene a qualcuno è pazzesco, quindi io ci credo vivamente e continuerò sempre a farlo nel possibile, diciamo, in base agli impegni lavorativi. Ti volevo chiedere, siamo in prossimità della finale di Ballando, una stagione che è venuta dopo quella del Covid, quindi avete avuto il pubblico in sala, un cast stellare, cosa rimarrà di questa stagione e chi vincerà? Guarda, è stato bello rivedere il pubblico, è stato bello farne parte, diciamo, integrante di una edizione, diciamo, rinnovata e soprattutto, come dici te, piena di grandi ospiti e di grandi personaggi. Diciamo, il cast dei maestri è sempre la parte integrante forte del programma, anche Milli, grande mattatrice del sabato sera con grandi ascolti e trovo che Ballando è infinito, quindi è un programma vincente sempre e comunque e la cosa bella è che non si sa mai chi vince, come hai detto te, quindi io oggettivamente non lo so, penso sia l'anno delle donne che è la cosa più bella e quindi sono felice che probabilmente due donne sono candidate, guarda, vedremo, Marisa o Sabrina Salerno per me in base a quello che hanno proposto durante il programma con l'incognita Morgan, che non è male, insomma. Un'altra domanda, l'anno del passaggio, diciamo, da Raimondo Todaro ad Amici, quindi lascia la famiglia di Ballando, però voi siete amici e come vedi il percorso che sta facendo da maestro? Guarda, noi siamo non amici ma siamo fratelli, anche perché siamo anche in nazionale qui insieme sempre e comunque e io trovo che l'amicizia sia infinita, quindi io gli auguro sempre tutto il bene del mondo poi il discorso professionale fa parte della vita e ognuno trova la sua strada e il suo percorso e lo sto vedendo alla grande, lo sto vedendo tranquillo e gli auguro sempre il meglio, come lui lo auguro a me sempre e comunque ci vediamo spesso anche fuori dai programmi e quindi avrà un grande successo perché è un grande, insomma siamo proprio persone vicine, umanamente, da sempre, da piccolini, quindi gli auguro tutto il bene del mondo. Grazie. Grazie a te.